Tifosi giallo-rossi siete collegati con lo stadio La Marmora Pozzo di Biella tra pochissimi istanti il debutto della Roma di Alberto De Rossi per il diciannovesimo anno consecutivo la guida della nostra primavera si inizia, si inizia con la prima gara subito complicata a Torino Proprio Missori adesso a destra il cross di prima per Felix La palla che rimane lì, ancora Felix, subito un brivido dopo 58 secondi Attenzione a Felix, scatta sul filo del fuorigioco, non si alza la bandierina Felix, 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 Felix sulla linea, il pallone non entra e la Roma ancora che continua a insistere convolpato il tiro a giro, Milano Tripli allarga a sinistra per Oliveras, il controllo è perfetto dello spagnolo nello spazio per Persson, 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 diagonale è un gol bellissimo della Roma, il primo della stagione 1-0 per la Roma, fur curling Persson colpato, con lo stop fa fuori l'avversario il cross, chiude Oliveras, traversa ecco il cross, il pallone che rimane in area con Tahirovic e la palla che si alza sopra la traversa in maniera incredibile Tahirovic da lì può anche calciare, lo fa, e lo fa benissimo 2-0 per noi, Tahirovic Missori in proiezione offensiva, lo stop è perfetto in area di rigore per Persson, che allarga troppo il sinistro, pallone che termina alto il pallone per Volpato, Volpato tocco sotto, pallone che rimane proprio per l'italo-australiano che fa 3-0 per la Roma, Volpato, ventunesimo 3-0 l'attenzione affaticanti che sbaglia, la conclusione di Garbet con Mastrantonio che lascia scorrere il pallone fuori Felix aria di rigore, Felix fa secco l'avversario Felix, diagonale fuori di Bartolo, proprio per Rocchetti Rocchetti pensa al tiro e che tiro è? 4-0 per la Roma con Rocchetti che toglie la ragnatella dell'incrocio dei pali 4-0 per noi, una super Roma all'esordio finisce qui, la prima stagionale è uno spettacolo per la Roma di Alberto De Rossi che vince 4-0 a Torino grazie a tutti grazie a tutti